Non c'è che dire, la provincia di Sernia è davvero generosa con i cacciatori. L'anno scorso ha regalato loro il portatesserino, quest'anno un cappellino florescente. Per lente di via Berta è un omaggio più che utile perché garantisce sicurezza. Serve cioè a dare maggiore visibilità e quindi a prevenire incidenti di caccia nei boschi. Ma non tutti l'hanno presa bene. Appare davvero eccessiva una spesa di oltre 11.000 euro per un cappellino che ti regalano nelle armerie o nei negozi che vendono articoli sportivi. Ma questa è solo una delle cause che hanno spinto un cacciatore a riconsegnare alla provincia il tutt'altro che gradito omaggio. Alla base del suo gesto infatti ci sono ben altre motivazioni. Ho deciso di riconsegnare il cappellino che mi hanno consegnato insieme al calendario venatorio, al tesserino. Perché per me la spesa è illegittima, è un'opportuna e scellerata. Illegittima perché non è nelle finalità dell'ente. Vangono i presupposti giuridici per regalare. L'ente non può comprare e regalare i cappellini, deve fare atti, deve fare regolamenti. Inopportuna perché avrebbe dovuto con queste stesse somme ben 11.000 euro, avrebbe potuto e dovuto fare altre cose. Specialmente di questi tempi non hanno soldi per pagare gli operai avventizi, hanno assunto un recentemente mutuo di oltre un milione di euro per poter pagare debiti per regressi, per cui potevano risparmiarsela. Scellerata perché, ripeto, insieme a tante altre spese che hanno fatto, vi erano infinite possibili destinazioni diverse, più utili sicuramente. Al limite le avrebbero potuto regalare senza fare demagogia. Alla Caritas per comprare la pasta per i poveri. Perché di questi tempi c'è chi soffre. e loro sperperano i soldi pubblici in questo modo.